Il suo curriculum, il sito 1 per tutti, suona l'orchestra di Polanca, questa sera è venuto qua perché segue anche Devo Morselli, gli dà la mano ormai da quasi 20 anni e soprattutto quando ci sono queste occasioni così belle dove si può suonare a Roma e non è facile di fronte a una basilica di fianco, una basilica così bella e a un pubblico così gentile che è venuto ad ascoltarci, signori e signori, da Torre del Lago, Andrea Tofanelli, rullo! Pensavo a una cosa un po' più ingraziata, un po' più in alto Devi fare qualcosa di più, vero Sergio? Si può dare di più? Schiacci tu i tasti per favore, lo sforzo con questo caldo Già un po' più lungo Grazie! Non c'è trucco, non c'è inganno